Villa Carlotta è uno scrigno d'arte e cultura. Il museo che occupa due piani dell'edificio è ricco di importanti opere d'arte. La villa toccò il suo massimo splendore nell'Ottocento grazie alle opere d'arte acquisite dal secondo proprietario, Giambattista Sommariva, che la rese un vero e proprio museo. Collezionista d'arte con svariati capolavori del Canova e del suo celebre atelier, Palamede, Amore Psiche, Tersicore, La Maddalena Penitente, di Thorvaldsen con il suo monumentale fregio L'ingresso di Alessandro Magno a Babilonia e di Aiez con L'ultimo bacio di Romeo e Giulietta, icona della pittura romantica italiana. Questi sono solo alcuni dei capolavori che per più di due secoli hanno fatto di Villa Carlotta una meta obbligata per il turismo culturale.